Ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video tag un video tag molto molto bello perché sono stata taggata dalla mia Makeup Angels quindi da Elisabetta e ovviamente non potevo non farlo questo tag si chiama quando ero piccola ci sono alcune domande e quindi iniziamo a fare questo tag allora ovviamente saluto Eli ciao Eli allora prima domanda quanti anni hai e dove sei nata? allora io ho 40 anni appena compiuti nel senso li ho compiuti a dicembre il 9 dicembre e sono nata a Catania sono siciliana e quindi sono nata a Catania seconda domanda mostra la tua foto da piccola e descrivila allora descriviamo la foto allora questa è una foto che avevo fatto un anno avevo compiuto un anno mi piace tantissimo perché mi piace la dolcezza che ha questa bambina piccola mi piacciono gli abiti che indosso mi piace mi piace mi piace la la spenseratezza la l'essere cicciottello e piacere a tutti mi piace tantissimo il naso alla patatina mi piace tantissimo vedere il divano di casa di mia mamma e mi piace ricordare sinceramente in questa foto la mia infanzia perché è stata bellissima e quindi mi fa sorridere mi fa veramente sorridere poi in questa foto io riconosco alcuni miei nipoti e anche i miei figli perché la forma degli occhi alcuni ce l'hanno tipo anche mia nipote Noemi ha una forma simile e quindi mi piace mi piace molto questa foto andiamo avanti terza domanda quando eri piccola avevi più amici maschi o femmine? allora io avevo più amiche femmine avevo un'amica del cuore che si chiama Sabrina Buscemi non so se mai vedrà questo video la saluto e poi avevo un amico del cuore che si chiama Dario Pappalardo che è stato l'unico amico veramente amico con la A maiuscola abbiamo fatto l'elementare insieme sì solo l'elementare insieme e fino adesso è l'unico che mi saluta che si ricorda il nome che mi dice ciao Stefania oppure se vede tipo una volta ho visto la mia migliore amica e gli aveva chiesto salutami Stefania quando io lo vedo per strada mi saluta è veramente una persona squisita fino adesso molte persone sapete si salutano con tutto schivi tutto con la puzza solta il naso invece lui no Dario proprio è rimasto il ragazzo che conoscevo io quando eravamo piccoli che scherzavamo ridevamo e c'era quella cosa di giocare giocando invece adesso c'è molto più se scherzate c'è sempre quel doppio fine e tutto invece con lui no con lui era veramente uno scherzare all'infinito e prenderci cura l'uno dell'altro quindi lui me lo ricordo tuttora lui ha una famiglia ha due figli maschi se non mi sbaglio come me e quindi lo saluto molto molto con piacere e quindi un amico maschio e poi tutte le altre femmine che sono quelle che poi mi sono portata più avanti e poi ho sempre diciamo avuto tante amicizie ma sono sempre stata trattata un po' male tranne per la mia migliore amica di oddio più di vent'anni fa e che adesso non c'è e quella è è durata abbastanza e poi adesso c'è la mia migliore amica che è Michela che ha dieci anni che ci conosciamo e dieci anni che ci sopportiamo a vicenda perché non sopportarmi poi quarta domanda quando eri piccola a che cosa giocavi? allora non so se alcuni riconoscono questo gioco tipo con le noci o badru non so come dirlo comunque o badru si giocava qui in Sicilia con le noci li strofinavi a terra e facevi il primo pupazzo e poi il secondo con la testa e dovevi lanciarlo a un tot di distanza lo dovevi lanciare e facevi cadere tipo il pupo e te li prendevi anche quelli degli altri e te li prendevi poi giocavamo al ballarò a nascondino un 2 e 3 stella poi giocavamo ai quattrocanti quelli con l'elastico che era bello perché noi giocavamo fuori con l'elastico ma quando eravamo a casa io e mia sorella perché la differenza tra me e mie sorelle è di 21 mesi quindi un anno e mezzo quasi un anno e mezzo e quando andavamo a casa avevamo sempre voglia di giocare cosa facevamo gli dicevamo a mia mamma di giocare insieme a noi e quindi lei messa seduta gli mettevamo l'elastico alle gambe e noi giocavamo con l'elastico perché noi eravamo in continuazione a giocare in continuazione sempre 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 quindi questi erano i giochi poi è arrivato un certo non lo so forse alle medie alle medie cioè alle medie avevo la Barbie cioè ce l'avevo anche di prima però la Barbie che avevo di prima era quella che si rompeva dove si staccavano le braccia le gambe la mia Barbie originale ce l'ho avuta intorno alla prima media quindi come adesso hanno i fidanzatini in prima media io avevo la Barbie mi piaceva tantissimo c'era anche avevo anche una specie di bambola che si apriva la schiena e gli potevi mettere il dischetto proprio sto parlando dell'antichità dove potevate mettere il dischetto mia sorella aveva Lady Oscar Loredana aveva Lady Oscar io avevo tipo Giorgi una cosa del genere ed era fantastica perché tu gli mettevi il dischetto e cantava era bellissima veramente molto molto bella poi avevamo delle bambole perché mia mamma ci comprava sempre una bambola a me e a mia sorella perché ci trattavano come se fossimo due gemelle quindi ci regalavano una bambola a me e una bambola a mia sorella quella bambola a Natale era bellissima stupenda e tutto per la Befana scompariva cioè ma come per la Befana scompariva mamma la bambola non lo so l'ha presa la Befana ogni anno ogni anno ogni anno cioè questo per due tre anni è successo che questa bambola scompariva il giorno della Befana noi odiavamo la Befana perché scompariva questa bambola l'anno dopo ritornava la bambola ma la genialità che aveva mia mamma gli cambiava il vestito perché mia mamma ha sempre cucito e lei ci faceva trovare la stessa identica bambola però con un altro vestito per farci capire che quella bambola era nuova e quindi e quindi cambiava il vestito ed era bello perché poi la bambola aveva più di un vestito e quindi la spogliava gli metteva un altro vestito eccetera eccetera poi ci hanno regalato i cicciobelli quelle a forma proprio di bambino e noi lo volevamo femmine niente i cicciobelli li troviamo sempre maschi sempre e infatti io ma mia sorella fa mamma mia ma basta ma tutti maschi cioè io ma e noi sapete cosa gli facevamo capiamo i capelli gli facevamo la cipollina proprio per farli diventare femmine infatti a casa di mia mamma la grande ha tre maschi io ho due maschi e l'altra sorella ha tre maschi nemmeno la femmina nemmeno una però adesso sono arrivate le nipotine e sono femminucce abbiamo un maschietto e due femminucce nella mia famiglia andiamo avanti perché sennò poi mi perdo quinta domanda chi volevi diventare da grande allora sinceramente io avevo pochi pensieri io potevo essere una modella un'attrice poi molto spesso mi capitava di essere una maestra avevo molti molti pensieri di questo genere però quello che mi piaceva di più era di diventare mamma di diventare come mia mamma quindi mamma e il mio pensiero era di avere quattro figli due maschi e due femmine ho fatto i due maschi ho detto meglio che mi fermo siamo bene tutte e quattro quindi quello è stato il mio desiderio era diventare mamma non avevo altri pensieri nella testa perché diciamo l'epoca era molto diversa e la mia testa era molto diversa di adesso stessa domanda cosa amavi mangiare allora il mio piatto preferito era la pasta in brodo con che era il brodo di pollo che da grande ho capito perché mangiavamo spesso il brodo di pollo e io ringrazio mia mamma per questo ma il mio piatto cioè il piatto proprio preferito non c'è perché mia mamma faceva il pane e quindi ogni settimana quando faceva il pane faceva anche le focacce che erano buonissime lei faceva il pane lo apriva e poi metteva l'origano l'olio buono e il sale e certe volte metteva i pomodori quelli secchi comunque faceva delle pietanze ottime mi è capitato che come merenda io mangiavo la fettina di pane o bagnata con l'olio e il sale di sopra oppure bagnata con l'acqua e lo zucchero di sopra mi è capitato che una ragazza che tra virgolette i genitori se la passavano proprio bene aveva le ebrio scine e quindi ero molto curiosa di sapere come erano queste briochine e una volta lei mi vedeva queste fettine di pane fettine che erano fettone di pane e mi faceva ma sono buone le ho detto certo che sono buone lo fa mia mamma e pane abbiamo cambiato per assaggiare quello che aveva uno e quello che aveva l'altro e sinceramente non è valsa la pena perché la brioche l'ho mangiata in due anni secondi e lei invece quel pane lo teneva infatti la volta dopo quando lei mi disse facciamo cambio le ho detto no no tu ti mangi da briochina confezionata io mi mangio cose naturali noi mangiavamo sempre cose naturali sia quando avevamo tipo il focarello sapete qui in Sicilia si chiamava unuce nel senso fanno una specie di di tinozza dove mettono il carbone e noi la sera tipo quando eravamo tutte assieme mia mamma metteva tipo le olive e con il pane caldo lo mangiavamo ottimo numero uno quindi mi ricordo queste cose veramente con tanto affetto e li adoro li adoro li adoro li adoro settima domanda cosa odiavi mangiare? cosa odiavo mangiare? allora non c'era una cosa che io odiavo mangiare se posso dire una cosa che io odio tuttora mangiare è la trippa queste cose le parti interne del no quelle no assolutamente no oh mio dio mi sento male tuttora infatti molto spesso quando loro li cucinano aliatina in siciliana aliatina no assolutamente no queste cose non mi piacciono non mi sono piaciute vent'anni fa trent'anni fa quarant'anni fa non mi piacciono tuttora queste no non mi piacciono assolutamente ottava domanda quando eri piccola quali quali erano le figure familiari genitori esclusi allora io ho avuto sempre la mia sorella che è più grande di me l'altra perché io ne ho due sorelle quella più grande di me che badava a noi perché mia mamma cuciva mia mamma cucinava e tutto poi Mirella faceva le altre cose quindi ci faceva i capelli lei perché noi avevamo i capelli lunghissimi proprio fino a la schiena però la persona che mi ricordo con tanto affetto era la mia nonna che era di Militello Val di Catania questa nonna era piccolina è proprio l'altezza di mia mamma piccola piccola con il fazzoletto in testa e la cosa che mi ricordo di lei è che quando andavamo noi cioè io e mia sorella Loredana perché eravamo le più piccole con mia mamma e mio papà andavamo da lei e lei ci comprava tutte le volte che andavamo da lei le patatine quelle piccoline a formaggio un pacchettino e noi andavamo dalla signora accanto che era una bottega piccola gli chiedevamo queste patatine più il biberon quello con il ciuccetto lei ce li comprava sempre 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 non era una persona diciamo che aveva soldi che stava bene economicamente tutto però io mi ricordo che quando andavamo noi non ci mancava niente cioè ci faceva prendere di tutto e di più era molto bella questa cosa io me la ricordo mi ricordo anche la pelle la grinzita che era piccola io me la ricordo proprio io poi l'ho persa quando facevo l'elementare quindi il mio ricordo non è molto diciamo vivido però era una persona che veramente ho adorato la nonna la nonna quella nonna come la nonna quella nonna quando tu vieni ti apre le braccia quella nonna quella non ha domanda quali erano le materie preferite a scuola nessuna allora mi piaceva leggere però non tanto perché poi venivo derisa degli altri quindi no non c'era una materia che mi piaceva di più disegnare non sapevo disegnare assolutamente io facevo una pallina come faccia poi mi facevo disegnare la mia sorella quindi disegnare no mi piaceva leggere questo si mi piaceva leggere però mi piaceva leggere tipo che eravamo tipo in due tre se io dovevo leggere che mi dovevo alzare davanti a tutti e ripetere no perché avevo la fobia perché tutti ridevano dietro di me e io sentivo loro e non sentivo quello che stavo dicendo io sblocco questa cosa e quindi non mi piaceva poi decima domanda quale consiglio dareste ai tuoi genitori riguardante te da piccola questa è una domanda semplicissima non darei nessun consiglio io ho avuto un'infanzia pazzesca bellissima piena d'affetto piena d'amore perché io ho vissuto in una famiglia molto amorevole ma con tutti zie nonne nipoti eccetera eccetera non erano queste famiglie che ci sono adesso dove ognuno sta per conto proprio prima c'era la riunione a casa della nonna tutti andavano tipo come faccio adesso io con i miei figli noi andiamo tipo a casa di mia mamma siamo lì un pochettino e poi andavamo a casa noi questa tradizione l'abbiamo continuata io con le mie sorelle invece vedo spesso delle persone che veramente li lasciano lì tanto hanno la loro vita la loro sono fatta invece no i miei genitori mi hanno fatto crescere benissimo mi hanno dato un'educazione mi hanno dato una forma di rispetto sia per quanto riguarda me che per quanto riguarda gli altri e poi veramente non mi hanno mai noi non eravamo mio padre faceva il bidello e e non eravamo quelle famiglie che avevano tutto non non avevamo tutto ma lui assieme a mia mamma non ci hanno mai fatto mancare niente noi non guardavamo gli altri anche in base all'educazione giusto non guardavamo mai gli altri pensando ah loro ce l'hanno io non ce l'ho mai 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 una cosa del genere perché il mangiare non ci mancava quindi eravamo tranquilli la cosa che mi ricordo è che c'era il bacio della buonanotte se non salutavamo il mio papà che tornava da lavorare lui ci chiamava tipo belli porci significava che lui voleva essere baciato quindi dovevamo dare il bacio e questa cosa me la ricordo tuttora e infatti molto spesso anche i miei figli tipo quando vedo che loro sono un po' tipo arrabbiati per qualcosa che è successo e non mi salutano io gli dico proprio questa frase bravi li porci e loro vengono e mi salutano io non non posso veramente rimproverare di niente i miei genitori perché mi hanno dato di tutto e di più quello che hanno potuto me l'hanno dato e quindi sinceramente non sento proprio l'esigenza di dargli un giudizio o di dirgli che hanno sbagliato in qualche cosa perché nei miei confronti nei confronti delle mie sorelle di mio fratello non hanno mai sbagliato in niente delle piccolezze si fanno ma quelle piccolezze ti aiutano e molto spesso un rimprovero fatto da una mamma che mia mamma è come quel post che mettono certe volte su facebook con la ciabatta che la lanci che diventa un boomerang ecco mia mamma è quella oppure mi ricordo una volta che mia mamma veniva se ti prendi ahhh ti ammazzo quella era mia mamma e poi cosa succedeva che non mi dava una sberla perché veniva qualcuno e tutto non mi dava una sberla poi io seduta nel divano tranquilla boom tipo un 5 e mi fa ma io non ho fatto niente questo è per quella volta se li ricordava se li ricordava e mia mamma è un tipo che no non te lo dice è un tipo che tuttora anche se grande di età la stessa cosa mio padre fanno di tutto veramente di tutto sia con me che con i miei figli fanno di tutto per renderci felici e se abbiamo bisogno sappiamo benissimo che possiamo affidarci a loro questa è quella quella cosa che mi dà fastidio di questo periodo il fatto di non vederli di non avere la sua presenza ed è bruttissimo quindi io vi chiedo io vedo molta strafattenza molte persone dicono e vai ci sono meno morti di ieri ma come potete gioire di una cosa del genere voi state cioè io vedo la gioia nelle persone nel dire sono di meno cioè perché dite questa frase è orribile è una frase orribile io sarò felice quando nemmeno una persona morirà di questa cosa perché è una cosa orribile sentire queste frasi veramente è una cosa orribile orribile io spero che questa situazione finisca presto perché non vedo l'ora di riabricciare i miei genitori perché mi mancano tantissimo e in questi giorni mia mamma compierà gli anni il 9 aprile mia mamma compierà gli anni quindi mi dispiace tantissimo non essere lì con loro a festeggiare niente spero di non avervi fatto o incupire per questa situazione a me piace e mi è piaciuto tantissimo questo tag perché ci sono delle domande veramente belle chicche perché mi hanno fatto anche ritornare al passato e quindi è una cosa molto molto bella io ringrazio tantissimo Elisabetta gli mando un grossissimo bacio ovviamente vi scriverò qui le tre persone che taggerò per questo tag e quindi spero ovviamente che faranno questo video io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao